prima lezione adobe premiere pro corso di montaggio fantastico direte voi iniziamo subito a montare un video no assolutamente no le prime tre lezioni purtroppo per voi saranno completamente teoriche no è in realtà è importante importante iniziare con un pizzico di teoria perché perché se imparate la teoria o almeno quel poco di teoria per iniziare vedrete che poi ne trarrete beneficio quando inizierete a montare con adobe premiere se ignorate completamente le informazioni teoriche di base che sto per darvi da qui da qui alle prossime lezioni potreste avere qualche difficoltà in più quando andremo a mettere mano sul software di adobe premiere quindi insomma sopportate con pazienza queste prime lezioni per poi partire alla grande con adobe premiere pro prima di continuare mi presento ancora sono fabio ambrosi sono qui per accompagnarvi in questo viaggio alla scoperta di adobe premiere alla scoperta del montaggio video non sono un istruttore adobe non ho nulla a che vedere con adobe purtroppo sono semplicemente un appassionato di montaggio sono appassionato in realtà lo faccio per il mestiere ormai da diverso tempo voglio condividere con voi quello che so e per questo motivo vi accompagnerò in questa scoperta che ci porterà che ci impegnerà per diverse settimane ok registratevi al canale se non l'avete fatto così da non perdere neppure una lezione iniziamo subito con la lezione teorica numero uno che cosa vuol dire fare il montatore video tutti mi chiedono spesso fabio che lavoro fai è complicato complicato sono arrivato alla conclusione che sono un operatore multivediale perché perché oggi essere un montatore video in realtà significa avere a che fare non tanto e non solo con il video ma con un insieme di cose che vanno appunto dal dal video alle fotografie suoni perché l'audio è un aspetto importantissimo del del montaggio video quindi sintetizzando che cosa significa fare il montatore video significa avere a che fare con due componenti importanti del diciamo di un oggetto multimediale che appunto sono il video e l'audio un segnale video più un segnale audio compongono un oggetto multimediale da qui la definizione che mi sono dato poc'anzi che mestiere fai faccio l'operatore multimediale perché appunto noi lavorando un video in realtà avremo a che fare e lo vedrete quando metteremo mano su premiere con oggetti multimediali complessi tante fotografie tanti 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 immagini prese da un cellulare piuttosto che da internet tutto questo forma un oggetto multimediale e c'è da domandarsi però prima ancora di mettere mano in premiere che cosa vuol dire montare un contenuto multimediale no cosa vuol dire montare allora non è un corso di montaggio teorico ci sono dei libri bellissimi che insegnano la teoria del montaggio che è qualcosa che andrebbe studiata e andrebbe insegnata a parte non è un corso di montaggio teorico è un montaggio dedicato a un software appunto adobe premiere però per iniziare questo corso ho pensato bene di fare una domanda cosa vuol dire montare un video cosa vuol dire montare un contenuto multimediale sintetizzando veramente tanto e semplificando forse anche troppo ma in poche parole montare un contenuto multimediale vuol dire intanto selezionare le immagini migliori da usare nel nostro filmato quando voi dovrete montare facciamo un esempio il video della vostra vacanza al lago ok probabilmente avrete tante immagini girate con il vostro cellulare piuttosto che con la vostra telecamerina o dal ceder immagini del cellulare del vostro del vostro amico ecco tante immagini magari messe insieme possono anche durare un'ora due ore magari voi volete semplicemente 20 minuti di video 10 minuti di riassunto e quindi dovete fare una selezione dovete scegliere le immagini migliori da usare nel vostro filmato quindi montare un video montare un contenuto multimediale innanzitutto vuol dire fare una selezione di quelle che sono le immagini o comunque forse qui ho sbagliato a indicare semplicemente le immagini meglio ancora selezionare i contenuti multimediali migliori da usare nel vostro filmato e poi non basta selezionare le immagini se voi siete andati a fare una vacanza al lago dovete dare un ordine alle immagini che avete scelto perché prima siete arrivati al lago magari avete messo su un barbecue magari avete fatto una partita di pallone magari avete fatto delle fotografie volete raccontare tutto questo in sintesi dovete selezionare le immagini ma dovete anche dare un ordine alle immagini che avete selezionato quindi decidere come raccontarla la vostra la vostra giornata e poi e poi come vi dicevo un contenuto multimediale non è fatto soltanto di immagini è fatto anche di suoni il suono è molto importante non dimenticate quando monterete i video che lo facciate per lavoro che lo facciate per passione che il suono è una componente importante quasi quanto le immagini quindi dovete creare costruire una vostra sound track che non vuol dire necessariamente comporre una musica ma può anche semplicemente scegliere quali sono i suoni più belli da mettere sotto al racconto della vostra gitarella al lago per esempio no quindi non so magari vi piace un pianoforte piuttosto che un insieme di archi no oppure semplicemente una un rumore di acqua che avete registrato vicino al lago non so comunque ricordate che anche la componente audio ha una sua importanza nel montaggio del montaggio video e infine quando avete selezionato le immagini avete dato un ordine alle immagini e avete dato una colonna sonora al vostro racconto dovete confezionare il progetto il prodotto per poterlo distribuire no magari il vostro amico con cui siete andati al lago vuole vedere il vostro filmato e quindi voi dovete produrre questo filmato confezionarlo nella maniera più giusta e più corretta per poter essere distribuito magari su youtube ok piuttosto che su facebook piuttosto che su twitter twitter magari un po meno si usa un po meno però ecco dovete decidere dove distribuire il vostro contenuto e confezionarlo ad hoc quindi sostanzialmente quello che dovete fare quando montate un video semplificando è perché poi anche qui come vi dicevo di teoria ce ne sarebbe da dire da raccontare tanta sintetizzando molto queste sono le cose principali che noi andiamo a fare quando lavoriamo un video nella prossima lezione perché per adesso mi fermo qui nella prossima lezione esploreremo quelle che sono le tre caratteristiche principali di un segnale video ok abbiamo detto che cosa significa montare adesso cominciamo ad esplorare che cosa andiamo a montare no abbiamo detto che montiamo un segnale video e un segnale audio nella prossima lezione vedremo vedremo quando parliamo di video di che cosa stiamo parlando no parliamo di di un qualcosa che ha delle caratteristiche quindi vedremo che il nostro video ha una risoluzione quindi una grandezza vedremo che il nostro video è fatto di fotogrammi ok quindi parleremo di numero di fotogrammi per secondo e parleremo poi di scansione non vi preoccupate se non sapete cos'è ne parleremo tra pochissimo mi raccomando registratevi al canale commentate se avete domande se volete aggiungere qualcosa fatelo tranquillamente commentando questo video venite a trovarmi sul sito www.fabbiambrosi.it dove ci sono tutte le lezioni che ho pubblicato con un articolo scritto per chi vuole leggere piuttosto che ascoltare me che parlo venite a trovarmi anche sulle pagine facebook fabbiambrosi e basta ci vediamo alla prossima lezione passate parola se conoscete persone che vogliono imparare a montare o conoscete qualcuno interessato suggerite gli questo video detto questo basta così ho finito il mio tempo alla prossima puntata ciao